Buongiorno dal Tg2, il presidente del Consiglio Conte alla cerimonia per i neoassunti dei servizi dice l'intelligence è un patrimonio di tutti, unisce e non divide e poi aggiunge sono un presidio di democrazia. Intanto fa ancora discutere la vicenda del Russiagate. I servizi sono di Ilaria Capitani e Alessandra Forte. La nostra intelligence protegge il paese, unisce e non divide, un patrimonio dell'intera nazione, una comunità di valorosi professionisti. La cerimonia per il giuramento dei nuovi assunti del DISS è occasione per il Premier di allontanare i dubbi sull'operato della nostra intelligence, dubbi innescati dall'incontro avvenuto quest'estate a Roma tra il ministro della giustizia americano Barr e il capo del DISS. Nessuna anomalia riferisce Palazzo Chigi sul quotidiano La Repubblica, motivo dell'incontro cercare, nell'interesse dell'Italia, di chiarire quali fossero le informazioni degli Stati Uniti sull'operato dei nostri servizi all'epoca e dei governi precedenti, quando il Premier era Matteo Renzi e poi Paolo Gentiloni. Conte riferirà al Copasir quando sarà eletto il Presidente del Comitato per la Sicurezza della Repubblica. Servizi segreti quale presidio della democrazia. La prima funzione in particolare è quella più naturale, non essendo concepibile un'intelligence che si muova al di fuori del controllo parlamentare e dei compiti che il governo le assegna. Conte respinge al mittente la richiesta di cedere la delega sui servizi segreti. Sul Corriere della Sera rivendica un comportamento lineare. Non sono servo di nessuno, dice, sono più duro di Craxia Sigonella, ricordando quando il leader socialista difese l'Italia entrando in conflitto con i servizi segreti americani. La comunità euro-atlantica, dice Conte, è punto di riferimento imprescindibile. C'è un accademico scomparso al centro del filone italiano del cosiddetto Russiagate. L'inchiesta giudiziaria su presunte ingerenze da parte della Russia nella campagna elettorale per le presidenziali americane del 2016. È un professore maltese che oggi risulta irrintracciabile. Joseph Mifsad, in passato docente presso l'Ateneo privato italiano Link Campus University, avrebbe fornito informazioni compromettenti su Hillary Clinton ad un membro dello staff di Trump, George Papadopoulos, e secondo la stampa americana avrebbe chiesto protezione all'Italia. Nei giorni scorsi il ministro della giustizia degli Stati Uniti, William Barr, e il procuratore del Connecticut, John Durham, sono sbarcati a Roma per incontrare i vertici della nostra intelligence. Un incontro richiesto attraverso i canali diplomatici autorizzato dal presidente del Consiglio. Il nostro paese viene anche tirato in ballo dai medi americani per altri incontri che Barr avrebbe avuto la scorsa estate, nel mese di agosto, con i vertici dell'intelligenza italiana, il cui operato fanno sapere fonti di Palazzo Chigi e il risultato finora sempre corretto.